Musica Signori benvenuti all'edizione domenicale del telegiornale di Teledeon. Ripercorriamo insieme le principali notizie della settimana. I carabinieri in festa per la Virgo Fidelis, la protretrice dell'arma che a Trani è stata celebrata con una messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor D'Ascenso. Vediamo. E la Vergine fedele a Dio alla missione di madre che le è stata conferita. Maria che ha accolto nel suo grembo il figlio dell'uomo che si fece carne nei secoli e divenuta simbolo dell'umiltà e della beatitudine di fede. E il suo essere Virgo Fidelis l'ha resa protettrice di chi per dovere fedele nei secoli i carabinieri che a Trani, nel monastero di Colonna, hanno celebrato la loro patrona il 21 novembre, giornata a lei dedicata da 74 anni a questa parte e che combacia con la presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Kulkenberg combattuta in Etiopia. La celebrazione è stata l'occasione per ribadire la missione di chi indossa la divisa da carabiniere. Noi ovviamente non viviamo se non per le nostre comunità. Siamo al loro servizio, ci devono sentire vicini, la caserma è sempre aperta per tutti quanti. Essere al servizio del prossimo diventa anche un augurio illuminato dalla protezione e dall'esempio della Vergine Maria. E prendendo spunto dal modello mariano che oggi è riferimento per la celebrazione e la festa, l'augurio è che l'arma possa continuare guardando a Maria il proprio impegno vivendolo come un servizio. Si è tenuto a Trani un convegno sul futuro della sanità pubblica. L'obiettivo è stato confrontarsi sui bisogni dei cittadini e sui problemi che coinvolgono il settore a livello nazionale e locale. Sentiamo. Dalle liste d'attesa alle tecnologie, dalle nuove necessità dei pazienti ai tagli che il settore sta subendo. Di questo si è parlato durante il convegno dal titolo Il futuro della sanità pubblica, organizzato a Trani dalla consigliera regionale del Partito Democratico Deborah Ciliento. Un'occasione di confronto sui bisogni dei cittadini e sui problemi che coinvolgono la sanità a livello nazionale e locale. Le emergenze sono molte. La prima secondo me è partire dalla base, rivedere i medici di medicina generale sia come numero e sia come pazienti. Perché attualmente i 1500 pazienti non consentono ai medici di medicina generale di poterli visitare e analizzare bene. E questo porta aumento di esami, aumento di richieste e aumento di liste d'attesa. Quindi secondo me bisognerebbe rivedere sia dal punto di vista economico, numerico e di formazione proprio la base. Le difficoltà e le criticità sono del sistema sanitario nazionale. Ovviamente anche qui in Puglia abbiamo delle criticità, però stiamo lavorando, stiamo cercando di risolvere tantissimi problemi dal punto di vista organizzativo e funzionale. Il PTA di Trani è stato individuato dalla regione come ospedale di comunità. Cambia molto perché la classificazione di ospedale che ritorna qui a Trani si acquisisce attraverso la possibilità dell'ospedale di comunità che dovrà prendere in carico persone che hanno bisogno chiaramente H24. Quindi si ritornerà a ricoverare H24. Io ritengo che il tema della sanità è al centro delle politiche e deve essere sempre veramente un faro su cui ognuno di noi deve prestare attenzione. Comunicare col territorio, con la base, su ciò che si fa, quelle che sono le scelte, è sempre opportuno ed è veramente condividere con una partecipazione comune e parlare di quelli che sono i temi di cui le persone hanno bisogno sentire la politica. Ad Andrea, vetrine dei negozi in rosso contro la violenza sulle donne. Mai più sole è la campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Organizzata da Confcommercio Andrea e dall'Associazione di Promozione Sociale Le Amiche per le Amiche. Il servizio di Marilena Pastore. L'esercizio commerciale di vicinato può essere una sentinella contro la violenza di genere perché le donne non si sentano sole. E l'idea che il presidente di Confcommercio Andrea Claudio Sinisi e l'Associazione Amiche per le Amiche con la sua presidente Francesca Magliano hanno lanciato in occasione del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vetrine in rosso, fularo, scarpe rosse, simbolo per antonomasia della violenza sulle donne. I negozi della città di Andrea che hanno aderito all'iniziativa vogliono far sapere a tutte le donne che non sono sole. E se il negozio non ha spazi espositivi che guardano la strada, saranno i dipendenti a indossare le maglie, t-shirt o nastri di colore rosso per ricordare che l'amore non è violenza. In ciascuno dei negozi aderenti alla campagna Mai Più Sole è esposto il cuorpugno realizzato dall'artista andriese Isabella Pistillo accompagnato da un messaggio molto semplice, amore non violenza. La campagna di sensibilizzazione vuole anche rilanciare la helpline che corrisponde al numero 339-22-1213-1 creata dall'Associazione Le Amiche per le Amiche per aiutare le donne in difficoltà perché siano supportati in ogni scelta che potranno fare a partire da riconoscere i segnali di una relazione tossica da cui possono e devono salvarsi. In occasione della settima giornata mondiale dei poveri a San Ferdinando di Puglia una giornata dedicata a visite mediche screening per chi versa in condizioni di difficoltà. Vediamo. Non distogliere l'attenzione sul fiume di povertà che attraversa le nostre città e diventa sempre più grande fino a straripare. È il monito che Papa Francesco lancia fin dall'inizio del suo mandato pastorale tanto da istituire ben sette anni fa la giornata mondiale del povero quest'anno celebrata domenica 19 novembre. Attenzione puntata in particolare sulla povertà sanitaria quest'anno. Nel 2022 le persone in condizioni di povertà assoluta si stima siano 5 milioni e mezzo di cui 400.000 in condizioni di povertà sanitaria cioè o ha rinunciato alle cure o ha chiesto aiuto alle realtà assistenziali presenti sui territori. Anche la Puglia non è esente da questo dato e così l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati messo su dall'Associazione Orizzonti insieme all'Arcidiocesi Titrani Barletta Abiceglie e alla Caritas Diocesana ha promosso a San Ferdinando di Puglia una giornata di visite mediche screening gratuiti a chi vive in condizioni di disagio visite urologiche, pneumologiche, mammarie cardiologiche ecografie, pediatriche, ortopediche garantite dagli specialisti dell'ambulatorio Moscati Il problema sanitario è importantissimo la povertà è un dramma sociale siamo a 600.000 persone che non possono permettersi la diagnosi ma credo che faccia ancora più riflettere il fatto che non si possano permettere le cure cioè io faccio diagnosi ma non posso curarmi questo è un conflitto importante nella nostra deontologia noi se facciamo diagnosi dobbiamo poter curare il paziente altrimenti lo vediamo trasformarsi e morire nella malattia In questa giornata vogliamo anche vivere un momento di riflessione e di sensibilizzazione così come ci invita Papa Francesco ad avere attenzione a non distogliere lo sguardo dalle povertà e dai poveri che per noi sono persone con le quali desideriamo camminare sono persone che vogliamo ascoltare perché hanno anche da insegnarci qualcosa un'esperienza quella dell'assistenza sanitaria che la Caritas di Barletta ha già sperimentato da anni sul territorio andando incontro alle innumerevoli esigenze registrate per quel che riguarda la zona pastorale di Barletta ormai siamo già un'esperienza quinquennale grazie anche alla presenza dei medici cattolici nel nostro ambulatorio provvisto anche di medicheria ma soprattutto di farmacia annessa questa esperienza quinquennale ha permesso di dare delle risposte concrete sempre più cittadini in povertà assoluta rinunciavano alle cure sanitarie e quindi al netto di quello che si può fare con la diagnostica che deve essere fatta assolutamente in esterna nel nostro ambulatorio riusciamo a dare delle risposte concrete si riaprono i cancelli dell'orto botanico ad Andria dopo anni di incuria e abbandono per la festa dell'albero oltre 150 bambini hanno visitato questo oasi a pochi passi dalla città completamente riqualificato andiamo l'orto botanico di Andria riapre i cancelli e la comunità dopo quasi un decennio di incurie e di abbandono il progetto di riqualificazione bonifica finalmente di oltre 20.000 metri quadrati di essenze arboree tipiche della macchia mediterranea verde che rischiava di morire del tutto e invece in occasione della festa dell'albero 150 bambini di alcune scuole della città hanno avuto il privilegio di conoscere questa meravigliosa oasi a pochi passi dalla città nei presi del santuario della Madonna dei Miracoli ed hanno assistito alla messa a dimora di tre nuovi alberi la fase logistica del recupero è stata affidata all'azienda Multiservice che ha risposto ad un preciso indirizzo politico dall'amministrazione Bruno noi siamo stati da un lato entusiasti perché abbiamo colto voglio dire l'obiettivo principale che è quello di ridare questa bella struttura alla fruizione della città abbiamo voluto anche cogliere l'ocazione per la festa dell'albero e quindi abbiamo invitato alcune rappresentanze soltanto di scuole cittadine che hanno raccolto questo invito e oggi quindi insieme piantumeremo alcuni alberi per festeggiare la ricorrenza ma anche uno dei nostri tecnici stanno facendo delle visite guidate ai ragazzi per far conoscere le essenze e anche le bellezze naturalistiche presenti in questo orto perché sono molto belle quindi noi auspichiamo che ci sia chiaramente una continuazione anche di questa attenzione di questa sensibilità da parte delle scuole ma della cittadinanza, delle associazioni e chiaramente in collaborazione col comune cercheremo di rendere il più fruibile possibile questa struttura Si tratta di uno spazio progettato, realizzato grazie a finanziamenti GAL ma poi mai finalizzato nella fruizione lo stesso luogo versato per anni in uno stato totale di abbandono e grazie alla nostra municipalizzata è stato fatto un lavoro importante di bonifica, di riqualificazione di tutti quelli che sono i viali, l'immobile uno spazio importante sul quale si punta alla valorizzazione a dare un impulso a quelle che possono essere attività culturali, sociali, turistiche anche promozione di attività di produzione agricole, fieristiche Quando abbiamo cominciato con l'amministrazione questo luogo che era stato messo in sicurezza con fondi pubblici era stato completamente vandalizzato e degradato senza che nessuno più se ne fosse occupato l'abbiamo rimesso in funzione grazie all'opera sinergica dei settori del nostro comune l'assessore al quotidiano, l'allora dirigente Santola Quacquarelli ma è stato il forte impulso della nostra municipalizzata con il suo amministratore, il dottor Antonio Griner era a fare in modo che oggi questa festa dell'albero si celebrasse proprio qui con tante scolaresche che ci hanno raggiunto affinché prendano contezza anche i dirigenti, gli insegnanti, i genitori di questo spazio bellissimo che da questo momento in poi vogliamo sia reso proprio fruibile il più possibile nel frattempo sempre l'ufficio patrimonio sta predisponendo il bando per individuare eventuali soggetti concessionari anche in rete nella logica del partenariato pubblico privato affinché 365 giorni l'anno e H24 questo luogo possa avere davvero chi se ne prende cura stiamo valutando anche convenzioni con la scuola, con l'istituto agrario e ci sono anche figure di esperti, un agronomo in particolare che si prende cura di accompagnare anche i nostri visitatori nel circuito che viene offerto dalla natura in questo orto botanico bellissimo della città di Andria a Trani in occasione della giornata mondiale dell'infanzia scuole e istituzioni in marcia per i diritti dei più piccoli vediamo un coro festoso e colorato che celebra i diritti dei più piccoli che dovrebbero essere garantiti a tutti i bambini del mondo ma che sempre più spesso sono violati a Trani i piccoli studenti, le istituzioni, le associazioni si sono stretti l'uno accanto all'altro e hanno camminato spalla a spalla per ricordare che 34 anni fa è stata approvata dalle Nazioni Unite la carta dell'infanzia per titolare i diritti di chi è il presente ma che sarà il futuro è importante che la politica e le istituzioni, il comune siano assolutamente vicini a dei percorsi che riguardano le scuole riguardano i minori ma riguardano tutti noi c'è il diritto al futuro per le nostre comunità per le nostre città, per la nostra regione quindi indubbiamente questa giornata che celebra i minori, i bambini è bello, non solo molto bello essere qui ma anche corretto, giusto ed è anche un nostro dovere unire le voci e dire no, no ad ogni forma di violenza dalla guerra a ciò che le cronache ci stanno indicando in queste ore noi non ci stiamo, non ci stiamo alla violenza quindi questa è una marcia dei diritti dei bambini che dice no alla violenza e dice sì alla pace i bambini hanno sfilato stringendo cartelli con cui hanno chiesto che la loro quotidianità fatta di studio e giochi possa essere reale per tutti i bambini del mondo e non un sogno come avviene per i piccoli che stanno vivendo l'orrore della guerra questa giornata tutti i bambini del mondo festeggiano i diritti dei nostri basta, non ce la facciamo più con questa guerra perché noi moriamo per colpa vostra stiamo protestando affinché finisca la guerra la manifestazione è stata l'occasione per ribadire che il futuro va garantito pensando però al presente e a come sensibilizzare chi avrà fra le mani il domani il processo formativo ed educativo inizia a questa età se vogliamo una società migliore se vogliamo uomini che rispettino le donne uomini che non usino la violenza con le donne in generale un'umanità molto più inclusiva e non così sempre pronta a non accettare il prossimo dobbiamo lavorare su di loro noi mondo degli adulti abbiamo il dovere, l'impegno di garantire loro questi diritti e accompagnarli perché loro è vero che sono il nostro futuro ma dobbiamo sostenerli, tutelarli fin da ora perché sono per noi già il nostro presente i referenti del progetto Andrea Food Policy Hub hanno raccontato i risultati raggiunti in questi mesi di attività presentate anche le tre start-up di innovazione sociale che andranno ad abitare il Chiostro San Francesco vediamo oltre 800 studenti incontrati per fare educazione alimentare confronti con più di 600 cittadini durante 5 incontri tematici per addetti ai lavori altri 5 eventi di sensibilizzazione 2 mercati contadini 2 eventi di animazione un orto di comunità sono alcuni dei numeri del primo anno di attività dell'Andria Food Policy Hub il laboratorio nato dalla volontà del comune di Andria per promuovere le buone politiche relative al cibo è stato un percorso lungo, sfidante Andria è tra le poche città in Puglia ma aggiungerei in Italia che ha affrontato un percorso così complesso in così poco tempo i risultati sono molto interessanti abbiamo coinvolto tanta parte della città di Andria e in più c'è la valorizzazione del Chiostro San Francesco il che significa rifunzionalizzare spazi pubblici che ospiteranno tre nuove imprese sociali dedicate ad attività diverse tra loro tra cui il recupero di eccellenze alimentari la formazione e l'educazione dei bambini ma anche degli adulti è un concetto di acquisto evoluto tramite un gruppo d'acquisto solidale di nuova concezione Qual è l'importanza delle politiche legate al cibo? È importantissimo noi facciamo sempre questo esempio quando parliamo soprattutto con i bambini noi sappiamo che il corpo umano è uno solo quindi molto spesso i fenomeni che riguardano una parte del corpo riguardano in realtà anche altre parti del corpo e queste qua sono le politiche alimentari perché il cibo attraversa tutto il sistema produttivo, culturale, economico, sociale della città e quindi ragionare su questi temi ci aiuta a tenere meglio il punto di quello che succede nella nostra città Abbiamo unito il percorso anche di educazione alimentare che va nella direzione poi di dar vita al Food Policy Hub anche al percorso dei luoghi fisici che ospiteranno questa iniziativa che è praticamente la prima in Puglia oserei dire, forse la seconda in Italia e infatti il Chiostro San Francesco che è oggetto di riqualificazione dedicata è ormai alle battute finali per quanto riguarda il riallestimento quindi vivremo questa porzione di città all'insegna anche della educazione alimentare che nel frattempo abbiamo fatto e siamo arrivati a questo obiettivo facendo anche una scelta di partners qualificati in tema di cibo, di gastronomia, di enogastronomia di eccellenze del territorio di valorizzazione della filiera corta questo concetto che comincia a diventare fortunatamente sempre più familiare con il quale però dobbiamo ancora fare le prove pratiche nel senso che un conto è parlarne un conto è poi mettere in pratica che cosa significhi utilizzare la filiera corta per il benessere alimentare e salutistico di ciascuno di noi a trani nuova casa per l'ANT la fondazione che fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie il servizio di Luca Ciciriello un ambulatorio infermieristico che opererà anche per la prevenzione e le cure palliative e poi una sala per i colloqui familiari e una per la formazione di operatori e volontari sono le principali novità della nuova sede dell'ANT a Trani la sezione della fondazione che si occupa di assistenza domiciliare specializzata e gratuita ai malati oncologici copre il territorio della BAT la sesta provincia pugliese e del nord varese il servizio è attivo da più di vent'anni e nell'ultimo periodo è cresciuto il supporto dei professionisti l'obiettivo è garantire presenza e vicinanza forse la cosa che più ci contraddistingue è la capacità di dare presenza di dare supporto di dare piccoli aiuti che fanno la differenza quando nessun altro ti risponde suggerimenti e la possibilità di non sentirsi soli perché per esempio la guardia medica dell'ANT risponde anche di notte nei festivi e nel fine settimana quindi quantomeno per una consulenza c'è sempre un medico di competenza esperto all'interno all'ANT che può dare supporto l'equipe è composta da otto medici sei infermieri e uno psicologo lo scorso anno sono state 200 le persone assistite accompagnate nella maniera più dignitosa possibile al fine vita l'ambulatorio che noi proponiamo è praticamente un'esperienza innovativa per il nostro territorio dove fino ad ora abbiamo fatto solo l'assistenza in senso stretto attraverso l'Odo, l'ospedale domiciliario oncologico noi portiamo un'assistenza ospedaliera a casa quindi poter allargare e dare la possibilità di un ambulatore di fare prevenzione, di fare visite eccetera è qualcosa di assolutamente innovativo che fino ad ora si era fatto solo a Bologna è praticamente la prima esperienza in Puglia e con quest'ultima notizia si chiude anche questa edizione del telegiornale di Teledeon vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon proseguimento di serata vi ringrazio per l'attenzione